E non manca niente! Capivo Family porta a scuola l'allegria! Un eroe in bilico, tra sangue e pallottole. Quel verme sta giocando con la tua testa. A volte. Senza un perché. Io mi volevo solo divertire un po'. C'è una piccola sorpresa. È mio fratello. Devo tirarlo fuori di lì. Hai paura, ragazzo? Mickey Rourke. Ha scoppiato l'inferno. A costo della vita. Domani sera, 20.45, Prima Visione. Italia 1. Mentos, the fresh maker. Un filo sottile divide i buoni dai buonissimi. è un filo d'olio molini che rende il Tonno Star ancora più buono. Tonno Star. La differenza tra i buoni e i buonissimi. I love it. Attenzione centrale, uomo in fuga in direzione sud. Su Jaguar e del 61, motore 6 cilindri, 272 cavalli. Cambio sincronizzato. Car Collection. Il mondo dell'automobile a fascicoli è la più esclusiva collezione di modellini metallo con tutti i dettagli originali. Primo fascicolo, scheda Jaguarè ad un prezzo eccezionale. Del Prado. Ecco il pollo, ragazzi. There is a magic on my feet. Cookie, cookie, cookie. Oye! Questo nel forno e questo in frigo. E gli odori non passano. Con cookie si può. Cookie alluminio. E doppia forza. Una question d'amore. E ora, donde sta? Ecco la mia droga. Lei, donde sta? Ah, la cicca. Quello, calvo? C'è, quello. E io sì. U la la. Vai, c'è. Oddio, dolore. Vai, vaga la tagliata. Vecchia le capellone. Ecco la laccia. Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho preparato per voi una grande sorpresa musicale. E buon ascolto per The Nightfly 2. Come consulente ginecologica Tampax rispondo a molte domande. Ad esempio, se gli assorbenti interni proteggono efficacemente. Sì, certo. Grazie a tutti i suoi morbidi strati, Tampax è comodo da indossare e assorbe come un assorbente esterno. Potete contare su Tampax. La risposta è facile. Tampax. Da star, pummarò rustica. Quando lo apri, senti il profumo e il sapore del pomodoro colto e preparato in giornata in una passata densa e polposa. Pomodoro star. Colto al mattino. Pronto alla sera. Carte è la prima opera completa con tutti i giochi e i segreti per vincere. Carte. Prima uscita in edicola a sole 2.900 lire. Con le prime carte da collezione e il mazzo da poker pin-up. Poker! Fabri Editori. Pasta! Migliaia nelle piazze. Milioni davanti alla TV. Per seguire l'evento musicale dell'estate. Festival Bar 99. Un'onda irresistibile che ha percorso l'Italia segnando una stagione di straordinari successi. Festival Bar ti aspetta per il doppio. Imperdibile appuntamento finale con i campioni della canzone. Tutti i veri protagonisti della tua estate in musica. Insieme sul palcoscenico unico dell'Arena di Verona con Alessia Marcuzzi e Fiorendo. Festival Bar 99. Le finali. Lunedì 6 e martedì 7 settembre. Solo su Italia 1.